L'arrivo di un gruppo di migranti a Castelmauro tiene in apprezzione gran parte della popolazione del paese. Il Comitato Noi per Castelmauro si è attivato contro quella che definisce un'imposizione e per questo una delegazione si è recata dal prefetto a Campobasso per illustrare le proprie ragioni raccolte anche 720 firme. Castelmauro, il paese che rappresentiamo, è stato coinvolto in un sito di immigrazione privato a discapito di famiglie che già erano presenti nello stabile e le famiglie sono state praticamente sfrattate dal proprietario dello stabile e abbiamo qui una famiglia indiana che abbiamo portato con noi per testimoniare tutto questo. Non ci sono motivi di razzismo alla base, hanno tenuto a precisare dal Comitato anche perché in paese ci sono un centinaio di stranieri, della metà extra comunitari inseriti, ma siamo contro qualsiasi business legato all'accoglienza dei migranti e vogliamo garanzie di sicurezza sociale. È un business gestito da cooperative, da tante situazioni che vanno solo a creare svantaggi secondo il nostro punto di vista. Siamo qui appunto per ribadire il nostro no al business, non siamo un popolo di razzisti, non siamo contro l'accoglienza, però secondo noi l'accoglienza è lontana dal business che hanno creato. Fare accoglienza significa accogliere persone con disagi a costo zero. Qui si parla di pocket money, si parla di alloggi che vengono praticamente gestiti da cooperative e c'è chi marcia dietro tutta questa organizzazione. Il prefetto Francesco Paolo di Menna ha accolto la delegazione del Comitato che ha chiesto anche la soluzione SPRAR, al momento però impraticabile da 40 i migranti da ospitare tramite cooperativa. Probabilmente entro Pasqua saranno 24, non in sei strutture come previsto inizialmente, ma in quattro. Dopo che grazie al lavoro del Comitato sono state evidenziate delle carenze strutturali. Da Palazzo di Governo hanno assicurato controlli e che non ci saranno business nell'ambito dell'accoglienza degli stranieri, ma al Comitato non va giù la soluzione individuata. Noi pensiamo a ragazzi inseriti in uno stabile dalla mattina alla sera con poche ore di corsi formativi che poi magari non so fino a che punto vengano poi realmente effettuati. Noi stiamo chiedendo anche di poter controllare magari che effettivamente vengano trattati in maniera idonea, in maniera corretta.